Sueto spazio dedicato alla medicina abbiamo qui con noi Luca Revelli, docente di chirurgia endocrina della Fondazione Universitaria Policlinico Agostino Giavelli di Roma e oggi qui, oltre ad essere dottore, professore, è anche un grande appassionato di mare. Eh sì, perché il dottor Revelli è direttore del Master del Mare. Intanto le volevo chiedere come nasce questa passione per il mare. Sì, diciamo medicina del mare, dove applichiamo tutto ciò che è benessere e anche traumatologia, problemi di salute legati al mare. Beh, diciamo, il mio interesse è la passione che ho sempre avuto per l'attività subacquea e poi, dal punto di vista professionale, mi sono sempre interessato di circolazione e di tiroide due cose che hanno molto a che fare con il mare e il loro benessere può dipendere dal mare. Noi già guardando le immagini che scorrono vicino a lei, guardando il blu, guardando il mare, già stiamo meglio. Quindi lei parla proprio di salute blu. Esattamente. Anche se è l'ambiente più grande che conosciamo, in realtà non lo conosciamo per niente e non conosciamo per niente tutte le potenzialità che ci può dare il mare e che ci possono dare gli oceani. Basta pensare che noi conosciamo molto meglio la superficie di Venere e di Marte di quella dei fondali. Il mare è tendenzialmente profondo, cioè mediamente è fondo 3.500-3.800 metri. Ci sono punte che arrivano a 11.000 metri nel Pacifico che sono decisamente più fonde di quanto sono alte le montagne più alte che abbiamo sulla Terra. Professor Revelli, in che modo il mare ci aiuta a star meglio? Beh, allora, l'ambiente marino ha tanti vantaggi. Iniziamo a parlare soprattutto d'estate, del sole, dell'aria marina e della luce. Soltanto la luce ha un impatto sul tono dell'umore molto positivo. Infatti anche in psichiatria recentemente è stata introdotta questa terapia della luce. viene calcolata in base a determinati ritmi circadiani e il paziente viene sottoposto alla luce per un determinato periodo, magari anche di notte, e migliora il tono dell'umore. Per cui tendenzialmente c'è questo vantaggio. Poi ci sono dei vantaggi... Dovremmo portare un po' di persone fuori all'aria aperta, secondo me. Almeno avrebbero un po' il sorriso. Prego, parlami il sorriso. Questo sicuramente. E poi il benessere di diversi apparati. Il cardio circolatorio. Si parla tanto in questa stagione di gambe gonfie. Cosa c'è di meglio? Di fare una camminata in acqua, magari immergendo le gambe fino alle ginocchia, riattivando tutto il ritorno venoso e linfatico e facendo questo massaggio naturale in un'acqua dove c'è una temperatura più bassa dell'ambiente esterno e con questo massaggio naturale che è promosso un po' dalle correnti, un po' dal moto ondoso, un po' dalla camminata. Professore, c'è un film di Panariello, mi viene in mente, quando proprio sulla costa della Versiglia lì c'erano quelli di una certa età che continuavano a fare attività sportiva nell'acqua, immerse e si muovevano. E poi la nuova tecnologia sul tapirulan, quindi sprecano anche energia. Per dirle che cosa? Che la nuova generazione, sempre meno a contatto proprio con la sabbia, il mare, si chiudono sempre più spesso invece in palestra, pensando di fare anche sport. E in controtendenza. Dovrebbe essere anche in controtendenza pensando anche al cambiamento climatico poi. Non consumiamo energia dentro una palestra, adesso non me ne vogliono vedere le palestre, però nel periodo estivo sfruttiamo l'aria aperta. Assolutamente, anche perché poi uno degli obiettivi dell'allenamento è anche la massima ossigenazione che possiamo avere e respirare e un'aria che nell'ambiente marino è un'aria particolarmente interessante perché è un aerosol, salso, bromo, iodico, ha tantissime sostanze che fanno bene anche alla respirazione. E allora, a proposito dello iodio, i vantaggi per la tiroide? Eh beh, lo iodio è fondamentale per il buon funzionamento della tiroide perché lo iodio è il mattone per costruire gli ormoni della tiroide. E lo iodio riusciamo ad ottenerlo soltanto dal punto di vista alimentare. Quindi, perché il mare va bene? Perché nel mare c'è concentrato tanto iodio che poi noi ritroviamo nei pesci, nei molluschi, nei crostacei e addirittura nelle alghe. Bisogna pensare anche che gli abitanti del nostro pianeta nel 2050 saranno quasi 10 miliardi. Quindi ci sarà anche un problema importante di approvvigionamento alimentare, quindi di risorse. E poi il mare è anche fonte di principi attivi per alcuni farmaci. Ce ne sono uno studio diversi e probabilmente potrebbero essere una svolta sia a livello di antibatterici, antivirali, per combattere malattie del metabolismo come l'eccesso di lipidi e di colesterolo. Quindi diciamo veramente una fonte inesauribile di benessere. Di medicina naturale, di benessere. L'abbiamo in tasca, potremmo dire, anche gratuitamente. C'è il costo del treno, del biglietto, ad esempio, per trasferirsi sulla costa e quindi veramente va sfruttata. E senza i fortunati che vivono al mare. E' vero. Grazie, grazie professore. Io volevo soltanto segnalare che ci sono delle foto che sono passate, che sono di un eccellente fotografo subacque, perché poi fare le fotografie subacque non è facile per niente, che è il professor Domenico Dugo, che lui lo fa così per il piacere di fare gli scatti, però è il direttore della nostra chirurgia generale. Avrei anche io il piacere di accompagnare entrambi i professori. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille per essere stato con noi.